Ciao, come stai? In questo video condividiamo idee per trascorrere il tempo di qualità con il tuo bimbo. I tempi stressanti potrebbero essere percepiti come impegnativi da attraversare, ma puoi fare molto per costruire una relazione salutare che farà sentire il tuo figlio amato e sicuro. Talvolta può essere faticoso pensare ad attività da fare con i nostri bimbi. Per aiutarti qui ci sono 7 consigli semplici per trasformare il vostro tempo insieme in un successo. Primo passo, fallo tutti i giorni. Cerca di trascorrere del tempo giocando con il tuo bimbo tutti i giorni, quando non sei distratto da altro, la televisione o il tuo telefono. Secondo passo, stai vicino al tuo bimbo. Il contatto fisico è importante, specialmente per i bimbi neonati. Per i bimbi un po' più grandi abbassati al loro livello, cosicché tu possa mantenere il contatto visivo. Terzo passo, lascia il comando al tuo bimbo. Lascia il loro tempo di esplorare le cose secondo i loro modi e ritmi. Sii paziente e rassicurante perché il mondo è nuovo di zecca per tuo figlio. Quarto passo, osserva tuo figlio. Osserva che cosa interessa a tuo figlio e che cosa guarda. Fai attenzione ai loro suoni, alle loro parole e alle loro espressioni facciali e cerca di imitarli. Quinto passo, trascorri del tempo giocando insieme al tuo bimbo. Aiuta tuo figlio ad esplorare il mondo attraverso i cinque sensi, facendo rumori ed introducendo le nuove consistenze e gusti. Sesto passo, parla al tuo bimbo. Inizia a parlare al tuo bimbo fin dalla nascita. Descrivi che cosa accade attorno a loro, dal meteo ai colori che stanno guardando e ai lavori di casa che stai facendo. Settimo passo, trascorri il tempo di qualità a qualsiasi ora. Tieniti in contatto con il tuo bimbo in modo giocoso durante l'allattamento, il bagnetto, quando lo vesti e in modo pacato prima di andare a dormire. Ricordati, trascorrere del tempo di qualità con tuo figlio è il miglior regalo che potrai mai fargli. Speriamo che questi suggerimenti ti diano molte idee su come legare con il tuo bimbo per qualche minuto al giorno, tutti i giorni, anche quando sei andaffarato.